parliamo di calcio verso la finale di Coppa Italia Juventus Napoli lo facciamo con Massimo Caputi buongiorno ciao buon lunedì caro Massimo che bello ritrovarti che bello ritrovare il calcio anche se devo dire un calcio particolare strano in questo ambiente surreale sicuramente più divertente la partita del San Paolo rispetto Torino ora dopo domani olimpico la finale che ti aspetti fra Juventus e Napoli Massimo diciamo innanzitutto è stata comunque una bella emozione dai alla fine di vedere il calcio giocato meglio la semifinale tra Napoli e Inter rispetto a quella Juventus Milan Juventus Napoli la finale ed è una finale che già solo per le squadre che sono in campo per la rivalità che c'è promette promette tanto è chiaro che queste prime partite non possiamo pretendere più di tanto è ovvio che questi tre mesi hanno arrugginito un po' i giocatori si vedono magari degli errori sia tecnici che tattici ai quali non eravamo abituati allora a questo punto anche la stessa finale diciamo che è evidentemente molto molto equilibrata potrà essere decisa da questo quell'errore oppure dalla bravura dei protagonisti a me sembra insomma che vedendo le caratteristiche delle due formazioni insomma mi aspetto una Juventus che faccia di più la partita e un Napoli pronto a colpire un po' come ha fatto con l'Inter. E questo sulle squadre invece se andassimo sui singoli Massimo che insomma da chi ti aspetti chi potrebbe essere o chi potrebbero essere i protagonisti di questo incontro? Diciamo che la Juventus in qualche maniera è un po' condizionata da Cristiano Ronaldo nel bene e nel male nel senso che Cristiano Ronaldo non solo è il giocatore che conosciamo e che sappiamo ma è anche uno dei pochi che segna nella Juventus che ha comunque questo problema dall'altra potremmo dire lo stesso per il Napoli con Mertens che insomma oltretutto proprio contro contro l'Inter è diventato il migliore capocannoniere di sempre del Napoli però credo che che il Napoli con il suo gioco abbia qualche possibilità in più di trovare il gol in altra maniera la Juventus che è fortissima ha degli attaccanti straordinari però sta di fatto che non ha questa questa mira infallibile se non segna Cristiano Ronaldo come ci ha detto anche il campionato prima dello stop insomma non è non è così semplice comunque diciamo per non sbagliarci i due giocatori simbolo Cristiano Ronaldo e Mertens indubbiamente sono gli uomini su cui i fari saranno puntati Caputi riparte anche il campionato cosa ci dobbiamo aspettare secondo te? Guarda io credo che le quattro squadre che comunque hanno già giocato oltretutto Juventus Napoli ne giocheranno due di partite avranno un piccolo vantaggio cioè quel vantaggio di avere comunque rodato la macchina è diverso il discorso per tutte le altre perché come abbiamo visto insomma è ovvio che è difficile pensare di ripartire pronti via quindi chi si farà trovare più pronto indubbiamente avrà un vantaggio e io credo comunque che al di là dell'aspetto fisico evidentemente molto importante è fondamentale l'aspetto mentale io credo che più è concentrato più è determinato comunque in questo momento in questo avvio partendo un po' tutti alla pari la concentrazione e la determinazione possono fare la differenza io comunque credo che dopo qualche partita poi insomma le gare saranno interessanti saranno combattute anche perché c'è ancora tanto da decidere sia in testa che in coda vero vero beh a cominciare dallo scudetto Massimo Caputi grazie di questa chiacchierata dopo una vita abbiamo ripreso abbiamo ripreso il pallone dai sostanzialmente tra le mani ma soprattutto tra i piedi buona settimana buon lavoro grazie a voi buona settimana